Sì, perciò diciamo che in questo modo... Io penso all'eternità, nel senso che Moana legge sicuramente su di noi e ci vuole un bel coraggio a inventarsi delle storie su Moana, perché poi si faranno i conti con Moana e quindi diciamo è una sfida al mistero, al soprannaturale, io avrei paura di inventare delle storie su una persona che è intorno a noi ma che fisicamente non c'è, che quindi ha una forza spirituale, un'energia come tutte le persone scomparse che potrebbe castigare i bugiardi e gli speculatori, quindi buona fortuna. Scusa Riccardo, siccome mi chiami in causa, cioè sono io qui e io rispondo di me, allora io non dico che Moana è viva o che Moana sia morta, io ho sempre detto una cosa importante, dai documenti prodotti, da quello che dicono i familiari, su Moana non c'è la certezza della morte e io dico dimostratemi che Moana è morta e io andrò pure a portare il fiore sulla sua tomba, quindi parlare con me di speculazione, di bugie, di mistificazione forse è l'indirizzo sbagliato anche da parte tua, perché caro Riccardo, nella dialettica di un confronto io sono sempre disponibile, il problema è un altro, è quello di accusare altri di dire Moana a leggia e poi dopo dire tu risponderai anche a Moana, io rispondo non solo a Moana, ma alla giustizia e a tutti su quello che ho scritto, però altri debbono dimostrarci, primo, che Moana è veramente morta, secondo, che tutta la produzione di documenti che ci sono è tutto falso e quindi rigirare le accuse, perché finora ognuno che parla, ognuno qui in questo campo su Moana c'è ogni affermazione senza prova, cioè noi vogliamo darvi la facoltà di prova di dire quello che voi dite, a cominciare anche dal tuo amico Antonio Dicesco, il quale continua a dire, io ho prodotto, lei mi ha chiesto di morire, io l'ho aiutata a morire, va bene, ci dicesse, ci dimostrasse che questo è vero, però anche lui che ha fatto? Non ha fatto altro che dirlo ad un giornale romano quanto a me aveva dichiarato nel libro che ho pubblicato, tutt'altro, quindi caro Riccardo ti pregherei di mantenere un po' i toni e discernere, dividere, diversificare le persone, altrimenti ognuno di noi ha sempre qualcosa da, non solo da recriminare, le bugie le dico io, le dice qualcun altro senza fare i nomi? No, le bugie le stiamo vedendo e vivendo in questi anni, ci vuole un bel coraggio dirle. Sì, appunto, anche tu hai del coraggio a dire le bugie allora. No, io non le dico, io sto scrivendo, vuoi la prima? Sì, hai fatto bene, perché anch'io l'ho presentata presso il PM Elisabetta Cennicola? No, te ne dico una, Riccardo, vogliamo vedere qualche bugia? Tu dici per esempio che 24 ore prima Moana ti ha chiamato e ti ha detto di organizzargli le manifestazioni, come facevi tu a organizzare le manifestazioni se lei era in esclusiva per Nicolino Matera con un contratto prima? Beh, allora tu stai parlando di un personaggio che ha acquistato da noi degli spettacoli, che non aveva nessuna esclusiva e che tra le altre cose Moana in punto di star male, anche se chiedeva di lavorare, le è stato detto di no. No, no, senti, scusa, Riccardo, senti Riccardo, io ho qui il contratto, tu ti definisci biografo di Moana, ma io vorrei sapere chi ti ha autorizzato a definirti tale e questa è un'altra bugia. No, no, quale bugia? Il signor Matera si è presentato con un assegno di 50 milioni a riscuotere, perché Moana non gli doveva nulla. Senti una cosa, no, intanto parla di me, scusa, il biografo perché? I personaggi che con Moana avevano poco a che vedere sul bello della vita. Riccardo, hai dimenticato che io ho scritto il libro con Moana, la filosofia di Moana è un libro firmato Brunetto Fantauzzi e lei ha dettato a me le sue... Sì, l'ha dettato pure a Noa Bonetti, anche lei si è fatto dei libri. No, no, io ho fatto il libro registrato al tribunale, caro mio, con lei. Ma non per questo devi continuare ad usare praticamente una testimonianza che era relativa a un libro, non a 10 libri. No, no, guarda caro, poi te ne dico un'altra, quindi ti ho detto la prima, io qui non ti dico bugie, io dico con i fatti, questo è il documento in cui è firmato da tutte e due un contratto triennale e c'è anche un fax fatto da Nicolino Matera a Moana, tre giorni prima... Sì, la chiusa in una stanza ci ha girato 300 film, stiamo parlando di speculatori di una violenza inaudita, io mi vergognerei a parlarne perché se proprio vogliamo trovare dei responsabili Riccardo, tu lo stai citando, rimane un personaggio completamente autonomo e libero da questo tipo di contratti puramente commerciali relativi a filmacci e a spettacoli. Questa è una valutazione diversa. No, non è una valutazione, i personaggi sono fatti di altro, la loro filosofia, la loro storia, l'hai raccontata tu in un libro autorizzato, la raccontano i fatti che poi ad un certo punto arrivano i commercianti, i venditori di carne umana e facciano dei contratti relativi a dei periodi o delle azioni o degli spettacoli, non ha niente a che vedere con quello che era Moana Pozzi, quindi hai toccato un sacco sbagliatissimo che mi dimostra che sei abbastanza estraneo a personaggio, tra l'altro le tue richieste sono esatte, c'è un mistero intorno a Moana, è dovuta una famiglia moralista che si è staccata completamente da Moana, che ha nascosto la realtà del figlio non di Moana, che ha nascosto gli ultimi momenti della vita di Moana, che non erano presenti mentre che Antonio Dicesco era a fianco di Moana in ospedale. Anche lì ci sono delle discrepanze perché Dicesco ha affermato di essere stato nella notte con Moana e la madre dice pure lei che è stata nella notte, che l'ha accarezzata, che l'ha pettinata, che gli ha messo in mano il rosario. Facciamo un confronto perché la signora Pozzi, la mamma di Moana, avrebbe dovuto precederci e fare lei la denuncia. Sì, perfetto. Allora vedi che viene sul mio discorso quello di trovare una verità su Moana. Io questo chiedo. Io non strumentalizzo e tantomeno lucro su niente. Per cui ognuno di noi dovrebbe essere talmente coscienzioso e talmente coraggioso da affrontare l'argomento per venire alla verità. Se tu la sai, dilla finalmente. Noi abbiamo mandato a Lione giornaliste come anche di chi l'ha visto. E l'abbiamo visto che ha tirato fuori. Riccardo ha tirato fuori dei documenti che non sono i giusti. Sono discrepanti anche quei documenti, come se fossero di un'altra persona. E tu lo sai meglio di me. È inutile che ci urliamo nel manico. La persona che era vicina a Moana era Antonio. E allora perché la madre dice che non lo è, che era anche lei vicino? Perché la madre dice che era una meraviglia di Moana. Scusa, Antonio, senti. Riccardo, vicino a Moana c'era la madre e Dicesco. Dicono loro, perché io non c'ero. Però nel racconto di Dicesco, Dicesco stesso dice che la mattina dopo stava la madre raccogliendo gli indumenti di Moana e dopodiché sono partiti per l'erba e dall'erba a Roma. Allora, mettiamoci d'accordo. Se Dicesco un giorno pure lui dice una cosa, un giorno dice un altro e cioè che non c'era la madre. Quindi, anche qui ci vuole la verità. Allora, Dicesco ha detto che non c'era la madre? Perché allora in altre occasioni ha detto che c'era la madre? La madre stava in un albergo vicino all'ospedale e si recava sattuariamente, a differenza di altri che non sono andati. Quando Dicesco stava lì che andava a passeggio con lei, almeno a chi l'ha visto ha detto questo, che andava a passeggio per l'Ione, mano nella mano e poi dopo sono tornati in albergo, cioè in Hotel de Die, dopo nella notte lei se n'è andata e lui si è svegliato. Stop. Cioè, c'è qualcosa che mi guarda. Ma scusate, c'è un ospedale che penso sia in grado di dimostrare... Ma in realtà...